Allora, benvenuti tutti quanti. Oggi parleremo di Fraud Risk Management con Fabrizio Versiero, con il supporto anche di Giovanni Italiento. Io ringrazio entrambi per essere qui oggi. E Fabrizio, come sapete, da un po' di tempo, da qualche settimana, è entrato a far parte della Corporate Finance come director proprio di questa service line, Fraud Risk Management, e quindi ci parlerà dell'importanza per le aziende di implementare un sistema di Fraud Risk Management e di quale appunto Are tocca tutto questo. Quindi nel ringraziare ancora Fabrizio e Giovanni, lascio la parola a Giovanni, che quest'oggi farà anche un po' da intervistatore. Grazie, Elia. Grazie, grazie a tante. A me l'onore di introdurre Fabrizio in questa chiacchierata, perché Fabrizio fa parte della nostra famiglia 231, essendo il modello organizzativo, questo rifugio per la multidisciplina che c'è nella nostra azienda. Quindi abbiamo tanti fratelli con cui lavoriamo insieme, Fabrizio è un esperto di frode. Siccome i modelli organizzativi devono, come obiettivo primario, prevenire e controllare la commissione dei reati, e siccome alla base del reato, quando c'è la fraudolenza, è ancora più pesante, ecco che avere un esperto in materia che ci affianca sia nei risk assessment che nella costruzione dei modelli è molto importante. Allora, io vorrei solo cinque minuti per attrarre l'attenzione su cosa si intende oggi, poi Fabrizio sarà più specifico. Per fraudolenza, quando si parla di fraudolenza, io pongo sempre l'accento sulla progettualità che c'è dietro la condotta penalmente rilevante. Quindi se pensiamo alle nostre aziende, pensiamo agli amministratori o ai manager o alle cosiddette figure apicali che progettano proprio una condotta tale per avere dei vantaggi economici e patrimoniali, ovviamente a scapito e a danno della collettività. Ultimamente si sta ponendo molto l'accento sul costo sociale che hanno le fraudoli, specialmente a quelle fiscali. Pensate non solo alle imposte che ovviamente non si versano, principalmente l'IVA o anche le imposte dirette. Pensate anche a quelli che sono i costi di indagine e di controllo, oltre ai costi di giustizia. Pensate ai costi di concorrenza sleale, per il fatto che chi ovviamente evade le imposte può offrire i propri prodotti e servizi tenendo conto di questo margine illecito all'interno della formazione del prezzo. Tenete conto del danno su tutti i servizi, tutto l'utilizzo di servizi è ben indotti dall'imprenditore che commette una frode. Generalmente chi commette una frode ha anche lavoratori in nero, ha anche dei costi acquisti in nero, quindi sono reali che accascano dall'imprenditore che si comporta a frodo all'interno, senza parlare e ignorare quello che è il danno d'immagine che ha la nostra nazione, per il fatto che comunque quando si parla di classifiche di non rispetto della legalità noi siamo ai primi posti o agli ultimi, dipende da come la si legge questa classifica. Quindi andare contro il comportamento fraudolento dell'imprenditore vuol dire applicare tre momenti, la prevenzione, il controllo e la repressione. Sulla repressione siamo stati bravi, però la repressione non funziona. Noi dobbiamo culturalmente spostare il nostro intervento sulla prevenzione e sul controllo, cioè sulla materia di cui si occupa. Un'ultima cosa, prima di introdurre ovviamente il suo speech, io ritengo che questa sia una linea di business strategica per il futuro. Poi nei prossimi anni non si farà altro che parlare di audit, di audit e di audit, ma non di audit sul fenomeno contabile, sul dare, sull'avere o sul fenomeno fiscale, ma di audit sul processo aziendale, perché l'azienda, se il sistema si comporta correttamente, avvantaggia tutto il sistema, diventando un sistema più economico e ovviamente meno costoso. Quindi, dando la parola a Fabrizio, mi aspetto qualche domanda da parte di qualche nostro collega curioso sulla materia. Io stesso, Fabrizio, mi permetterò magari, quando lo ritengo fortuno, non vi interromperti, ma magari di farti qualche dato. Assolutamente, volentieri. Ringrazio Giovanni per questa introduzione e ringrazio ovviamente tutti per la vostra presenza oggi per affrontare questo tema di fraud risk management che, come sottolineato da Giovanni, si va a... Grazie. 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 Qui si chiama un'esigenza numerica di quantificazione di quello che dovrebbe essere poi il fenomeno della fraude che si va a verificare in determinato momento, piuttosto che anche il discorso di progettualità che quindi va a intersecarsi con le condotte del management, dei dipendenti o di terze parti che partecipano a realizzarsi di uno schema di fraude. La fraude come la conosciamo oggi non è un concetto da confondere con il termine errore. Di solito, soprattutto nella nostra attività, non solo consulenziale ma anche di revisione contabile, ci troviamo spesso a dover valutare gli impatti che alcuni errori, sia sulle stime che sui calcoli effettuati dalla società per un determinato posto di bilancio, hanno questi errori, il loro impatto che hanno proprio all'interno dell'economia stessa del bilancio che andiamo ad analizzare. L'errore tipicamente si va ad inquadrare in una fattispecie molto più ristretta rispetto a quella della fraude, poiché manca ovviamente l'elemento di intenzionalità, ma stiamo principalmente parlando di errori di calcolo, di un'errata interpretazione dei fatti, di un'errata stima sulla base delle informazioni disponibili in quel momento, e talvolta anche di un'involontaria ed errata applicazione di quelli che sono i principi contabili vigenti da parte dell'azienda. Quindi molto importante questo concetto perché dobbiamo sempre andare a valutare in un'attività di fraud risk management, nella fase sia preventiva che di detection, tutte le informazioni a disposizione in maniera asettica e individuare nel caso di specie della fraude di carattere contabile e finanziario, l'atto intenzionale che ha portato a manifestarsi quella fraude, individuarlo dalla lettura dei documenti, dall'analisi dei dati, da un'analitica review fatta secondo migliori informazioni disponibili sul settore e sul mercato di riferimento, insomma tutti quegli elementi che ci consentono di formare un nostro parere, una nostra idea su quelle che sono stati gli accadimenti, come gli stessi si vanno a concatenare con tutte le condutte che sono tenute dai vari soggetti che partecipano allo schema di fraude. La fraude poi in effetti è anche un mix di ulteriori componenti, perché essendo un atto non complesso, ma sicuramente architettato e nascosto all'individuo principale da chi va ad ideare un determinato schema o va ad attuare un determinato schema di fraude, diciamo che si articola su una serie di componenti che possono essere riassunte, soprattutto nelle tre raffigurate nel triangolo di questa slide. Abbiamo un elemento sicuramente di pressione, pressione che è da intendere sia in senso soggettivo che oggettivo, perché? Perché sia in management, quindi i livelli apicali della piramide aziendale, ma anche i dipendenti che hanno determinate mansioni e che quindi si trovano ad essere i primi a dover recepire alcuni dati di carattere finanziario o comunque anche ad effettuare materialmente quelle che sono le disposizioni date dal management, subiscono in effetti una elevata pressione nelle attività che vanno a svolgere. Pressione come diciamo prima di carattere soggettivo, perché sappiamo, penso che questo anche da un punto di vista intuitivo sia facilmente interpretabile da parte di ciascuno di voi, ciascun individuo è portato a cercare un vantaggio anche di carattere economico-finanziario in ogni attività che va a svolgere. Quindi sia il management che il dipendente cerca di andare a rappresentare nei confronti dei vari stakeholder aziendali, che quindi non sono solamente i soci, ma sono tutta una serie di attori con i quali questi, quindi sia il management che i dipendenti si fanno a confrontare, cercano di rappresentare la loro performance nel miglior modo possibile e quindi nel produrre ad esempio una reportistica piuttosto che una sintesi di quelli che sono gli incassi e i pagamenti effettuati da una determinata azienda, piuttosto che anche le performance individuali misurate con meccanismi di MBO, piuttosto che di bonus e di altri indicatori che possono essere rilevanti per il settore di riferimento. Tutti questi elementi contribuiscono a creare una pressione sulle singole persone e a ingenerare anche il meccanismo della seconda dimensione che è il meccanismo di opportunità, cioè dire fatta questa pressione che può essere misurata da un punto di vista quantitativo, qualitativo come detto prima, c'è un'opportunità nel commettere un determinato atto di frode in quella azienda, in quel determinato contesto. L'opportunità è ovviamente anche questa una dinamica che può essere sia di carattere soggettivo che oggettivo, poiché l'opportunità può essere anche fornita da un sistema di controllo carente dove il dipendente o il management coinvolto nell'operazione che stiamo prendendo in esame può essere incentivato o meno ad effettuare quella, a perpetuare quel comportamento fraudolento, poiché si annidano delle opportunità di, ad esempio, di ottenere un vantaggio in termini reddituali, si annidano opportunità di poter coinvolgere un fornitore o un cliente, quindi una parte terza, a svolgere un determinato comportamento fraudolento ai danni dell'azienda, come ad esempio spesso ci troviamo soprattutto nel periodo recente a dover far fronte a queste analisi sui magazzini delle società che vanno ad importare merci dall'altra parte del mondo e spesso nell'acquisizione di queste merci di magazzino nei paesi asiatici notiamo alcune differenze significative in termini di quantificazione del magazzino, quindi ordinati 100 prodotti, arrivati 200 e dove magari si va a ribilanciare l'effetto del magazzino quantitativo attraverso il prezzo, quindi invece della quotazione dell'ordine di 10 euro abbiamo il prezzo di mezzato, se non ancora addirittura inferiore. E ovviamente questa pratica ad esempio consente ad alcuni fornitori di poter smartire velocemente il magazzino ai danni dell'azienda che ovviamente lo acquisisce, che magari ha sottoscritto un determinato ordine, ma che per effetto di un comportamento frattorento presente sia all'interno dell'azienda, quindi magazziniere e gesticente del magazzino, sia per effetto del comportamento di un soggetto esterno, quindi fornitore di turno, insomma questo può andare a creare all'azienda che stiamo osservando alcuni problemi proprio nella gestione dell'attività di logistica, che da un certo punto in poi invece di avere un determinato quantitativo, così come rappresentato nel sistema contabile, se ne ritrova invece uno molto più elevato. E un'altra componente che è sicuramente importante nella schematizzazione del concetto di frode è componente di razionalizzazione. Questa forse è prevalentemente soggettiva, perché diciamo di solito abbiamo riscontrato in più casi, nella scorsa di attività professionale, penso sia colleghi revisori, ma anche colleghi consulenti, di questa difficoltà da parte del nostro potenziale cliente, di poter accettare il fatto che, di poter confessare al proprio consulente di avere effettivamente commesso un atto non in linea con quelli che sono i principi da seguire. Questa componente di razionalizzazione è chiaramente una componente molto importante, e voi che contraddistingue anche un fenomeno... Grazie a tutti! Grazie a tutti! Lui che compie la frode non vede se stesso come un criminale, per questo deve giustificarsi con se stesso, ancora prima di conoscere. Questa è una cosa importantissima che poi nella pratica dei fatti si osserva sempre, ci sono tantissimi esempi, quindi l'esempio più classico, il primo interlocutore del nostro mestiere, che è il direttore amministrativo e finanziario, o il responsabile dell'amministrazione, che non sa tante volte di concorrere alla commissione di un reato, quale quello ad esempio di utilizzo di fatture false e dichiarazione fraudolenta. Molto spesso il responsabile amministrativo pensa che a firmare la dichiarazione sia l'amministratore delegato. Recentemente la Cassazione con un'altra sentenza ha sancito invece grandissima responsabilità da parte di colui che determina le decisioni su come formare la dichiarazione dei gretti, senza che possa essere un dirigente. Quindi nella nostra pratica quotidiana ci capita spesso di vedere soggetti che sono attori di frodi, ma che pensano di essere presenti da qualsiasi tipo di risposta, giustificando se stessi, come dice Fabrizio, se no perdo il posto di lavoro, se non faccio così l'amministratore delegato mi licenzia, il magazziniere che nasconde la merce di contrabbando sopra il carrello, se non faccio così il capo mi licenzia, mi riprende. Ecco, volevo riportare... Assolutamente, condivido molto questo punto, anzi, in effetti poi di meccanismi che consentono di perpetrare una frode, ce ne sono tantissimi, quello del magazzino magari è quello che più, come dicevo prima, ma ultimamente riusciamo ad intercettare di frequente, perché in situazioni di crisi è ovvio che ciascun attore coinvolto sul mercato cerca anche di allearsi con forze esterne, all'esterno del perimetro aziendale, quindi questo tipo di schemi di frodi diventano molto più articolati. Se io riesco a fare questa attività di contrabbando e di inserire all'interno del mio magazzino determinati prodotti, è chiaro che ottengo un vantaggio in debito personale nell'aver consentito a questo fornitore di effettuare questa attività e ovviamente sfrutto quella che può essere un po' la base, avere dei dipendenti che hanno paura di perdere il posto di lavoro in un determinato contesto sia di normalità, ma soprattutto di crisi aziendale, come recentemente stiamo osservando. Questo poi, tra l'altro, il concetto di frode è un qualcosa di sempre in continua evoluzione e da questo punto di vista ACFED ha un importante contributo, ACFED è un'associazione dei frode examini recertificata a livello mondiale e ACFED ha un importante contributo sulla definizione del concetto di frode poiché oltre a darne definizioni, condividere le definizioni che vi ho riportato sopra, l'articola secondo tre principali fatti specie che possono essere elencate, così come riportate nello schema di questa slide, nell'attività di corruzione, di appropriazione in debita degli asset aziendali e ovviamente le frodi che riguardano la falsa comunicazione sui financial statements, quindi sui bilanci, ma non solo, su tutti quelli che sono i documenti finanziari che un'azienda può produrre. Chiaramente, qual è la dimensione del fenomeno legata alle frodi? Beh, ho cercato di darvi, diciamo a lato, un dato di sintesi. È un dato di sintesi che mi sembra molto importante perché sulla ricerca fatta da ACFED, che comunque riguarda circa 18.000 casi di frode in tutto il mondo, comunque va ad identificare una percentuale di casi molto significativa per quella che è l'appropriazione in debita degli asset aziendali, quindi sia essa, diciamo, cassa, ma anche altri tipi di asset che sono a disposizione dell'azienda. E però, diciamo di converso, quelle che hanno il livello e l'impatto, quindi anche la magnitudo e significatività superiore, sono quelle invece che riguardano la falsa comunicazione sui documenti finanziari, bilancio e non solo. La mediana, infatti, di questo danno è molto più elevata, 954.000 dollari rispetto a quella dell'appropriazione in debita degli asset. e proprio per questo ho pensato che poteva essere utile andare a evidenziare anche un po' che cosa succede dalle nostre parti, no? Quale era la dimensione del fenomeno in Europa occidentale. Beh, sui 128 casi che sono stati analizzati per il 2020, osserviamo che la mediana della perdita, quindi del danno causato da questo tipo di comportamenti fraudolenti è di circa 139.000 dollari. L'Italia, in questo paniere di 128 casi, ha comunque, diciamo, un peso relativamente importante, che sono quasi, diciamo, il 10% dei casi che sono stati analizzati. e scopriamo, diciamo, che in Europa occidentale scopriamo forse qualcosa, non di nuovo per tutti i colleghi del mondo revisione, ma andiamo ad evidenziare che quali sono poi i meccanismi di controllo antifrote che ci consentono di andare ad identificare questo tipo di fatti specie. Beh, abbiamo a primo posto, diciamo, gli audit che vengono fatti appunto dal revisore, dalla società di revisione, il 89% dei casi. Secondo posto, notiamo un'efficacia importante da parte del codice di condotta, che ovviamente, stiamo parlando anche di aziende che sono un attimino strutturate quando parliamo di codici di condotta, e che quindi adottano una serie di regole interne al fine di prevenire questo tipo di comportamenti fraudolenti per determinate funzioni aziendali, oppure, diciamo, essere in grado di comunque avere strumenti per poterli intercettare rapidamente. Ci sono anche le certificazioni del management sui financial statements, quindi tutto il mondo, diciamo, delle attestazioni dei dati, che comunque è un meccanismo che conosciamo anche noi, sia lato revisione che lato advisory, quando andiamo a chiedere a nostro cliente, prima, insomma, di cominciare a fare il lavoro fattivo sul campo, insomma, di ottenere un'attestazione sui dati che andremo ad utilizzare, proprio per evitare di fare un lavoro a vuoto, insomma, di scoprire poi l'inevitabile, cioè che ci sono dei dati che sono, voglio dire, soggetti a questa, soggetti a comportamenti fraudolenti che ne hanno distorto sia il significato che appunto l'evidenza numerica. E via via, poi, diciamo, tutte le altre, tutte le altre casistiche, modi in cui sono stati intercettati le frodi, sicuramente molto importante avere un internal audit department che possa essere operativo, no? Su tutte queste casistiche. Abbiamo poi, diciamo, forse, in fondo alla classifica, la cosa un pochettino più nota, un po' sonata, è che i meccanismi, forse, di whistleblowing oggi, nonostante gli interventi normativi che sono stati fatti di recente nel 2019, in particolare per l'Italia, in un momento non stanno ancora magari dando tutta quella efficacia, no? Che ci si aspetta da uno strumento che banalmente è fatto proprio, è concepito proprio per andare alla radice del problema, quindi proprio all'individuazione di quella che può essere l'attore che è coinvolto in quel tipo di schema fraudolento. Poi per darvi, diciamo, anche qualcosa di pratico, perché altrimenti parliamo solamente di pura teoria, diciamo che io in passato ho sempre avuto questo pallino per il settore sportivo, tra l'altro ho fatto anche qualche pubblicazione in merito sui dati delle società di calcio e sono stato coinvolto in particolare da un curatore fallimentare di una, appunto, che aveva acquisito e è stato nominato, ricorreggo, come curatore fallimentare di questa società di calcio che mi ha chiesto imparire su alcune movimentazioni di diritto alle prestazioni di calciatori in alcune annualità precedenti al momento in cui la società era stata dichiarata poi insolvente. Precedentemente all'insolvenza, ricostruendo un po' le finestre di mercato di tutto, quindi finestre in cui poi a beneficio di tutti si fanno proprio a scambiare i titoli di questi calciatori, ci sono delle finestre estive ed invernali nelle quali c'è la compravendita di questi diritti in modo che, diciamo, tutte le società abbiano possibilità di migliorare il proprio team e, come dire, raggiungere gli obiettivi sportivi. tra tutte queste transazioni ne ho individuate parecchie che avevano uno schema molto riconducibile a quello che è stato lo schema utilizzato per tanti anni anche nel caso, diciamo, del fallimento del Parma Calcio e che erano legate appunto alle cessioni cosiddette incrociate dei diritti alle prestazioni di calciatori tra una società e l'altra. Banalmente che cosa succedeva? Società A che vende a società B un determinato calciatore senza particolare gloria sportiva la società A per vendere quindi questo titolo a quest'altra società rileva una plusvalenza e la diminuzione dell'attivo immobilizzato in relazione al decremento che ha avuto per questa vendita. Di pari passo la società B che cosa faceva? Nella stessa finestra di mercato o in quella sei mesi più tardi successiva andava a cedere nuovamente questo diritto con un meccanismo che fino al 2019 era in vigore e poi è stato abrogato era un meccanismo della cosiddetta comproprietà. Cioè io società B che ho titolo ad utilizzare questo calciatore sia ai fini sportivi che anche ai fini economico-finanziari dò la possibilità alla società ma deve essere anche un'altra società però in questo caso si verificava sempre con la stessa quindi dò la possibilità alla società di utilizzare questo diritto pagandomi il 50% del prezzo di questi diritti e le prestazioni dei calciatori. questo intreccio ovviamente non finiva qui nel senso che così come si rilevava in una determinata finestra di mercato l'operazione da A e B e viceversa per quanto riguarda il meccanismo di compartecipazione se ne rilevava un'altra di pari valore a parti invertite e cioè qui società accessionale del diritto e che acquisisce quindi diritto dalla società B e la società B invece acquisisce poi successivamente la possibilità di utilizzare quello stesso calciatore che aveva venduto un attimo prima per il 50% del valore del cartellino. Queste accessioni incrociate diciamo che hanno una come dire un obiettivo molto molto pratico non solo non osserviamo in questo caso solamente il fatto della condotta fraudolenta quindi identificare che l'atto è intenzionalmente effettuato da una società e dall'altra per come dire creare una plusvalenza nell'una e un'altra società ma l'aspetto pratico vero e proprio è che con queste accessioni le società si iscrivevano tranquillamente ai campionati anche senza avere cassa perché uno dei requisiti per l'iscrizione ai campionati di queste annualità stiamo parlando più o meno del 2010 2012 era quello di avere un rapporto patrimonio netto su attivo e mobilizzato superiore a una determinata soglia ed è chiaro che il miglioramento del patrimonio netto mediante la registrazione della plusvalenza che alimentava il risultato di esercizi in maniera positiva garantiva da ambo i lati la possibilità di migliorare questo rapporto tra l'altro diciamo che queste società si andavano anche a liberare di un pochettino di anche di un pochettino di attivo che forse non è neanche recuperabile cioè un giocatore dalla parte all'altra questo aspetto un po' come dire meno importante ma comunque che rileva nel nostro esempio pratico questo per esempio nel lavoro che feci era un po' poi l'esercizio che si andava a sviluppare quindi il ricalcolo della plusvalenza fittizia dato un determinato livello e valore di mercato di quel calciatore rispetto ad effettivamente quante partite aveva giocato in un camminato professionistico la svalutazione del diritto del calciatore che era stato acquisito ma che non valeva fondamentalmente nulla ed anche la ricostruzione poi di quelli che sono i movimenti sugli ammortamenti perché è chiaro che poi quando acquisisci questi titoli per questi valori esorbitanti l'altra faccia della medaglia è che li devi anche ammortizzare durante la vita utile del contratto ed essendo tipicamente un contratto di massimo cinque anni così come previsto alle norme sportive anche ammortamenti molto veloci che quindi impattavano significativamente sul risultato economico quindi plusvalenza la cessione di diritti praticamente non rilevanti da un punto di vista economico finanziario rilevazione ogni anno di incessanti ammortamenti si ripartiva di nuovo e quindi poteva succedere che uno stesso giocatore così come in questo caso che vi ho rappresentato sotto potesse essere diciamo comprato e rivenduto da un anno di distanza dai due stessi club che l'avevano commercializzato in precedenza anche con un meccanismo di compartecipazione così come vi spiegavo prima questo tipo di frode ad esempio perché sono importanti i numeri per tornare al concetto che dicevamo prima i numeri sono importanti perché questo tipo di schema di frode può essere individuato preventivamente dal revisore consulente contabile dal direttore finanziario andando o nel caso di specie poi anche dal curatore fallimentare andando a verificare questi tre indicatori valore residuo contabile del diritto valore di mercato ovviamente il confronto tra i due le presenze del del calciatore è un campionato professionistico perché chiaramente quando si vanno a movimentare cifre importanti e vicine diciamo a diverse milionate di euro è chiaro che la veridicità di quel prezzo è anche legata al fatto che quel calciatore abbia disputato un determinato numero di partite in un campionato e poi soprattutto una cosa da notare che non per esempio in altre situazioni altri colleghi non vi pongono l'accento ma io questi lavori che ho fatto ho sempre rilevato e ritenuto importante è la questione dei tempi perché queste operazioni vengono fatte tipicamente nelle finestre di mercato che più si avvicinano alla data di chiusura del bilancio se società sportive chiudono tipicamente il bilancio o al 36 e quindi puoi trovare una serie di operazioni cioè incrociate nella finestra di mercato estiva oppure le puoi trovare nella finestra di mercato invernale su quelle società che invece chiudono il bilancio al 31 di dicembre e questo caso è stato molto molto interessante direi che ancora oggi abbiamo una serie di cessioni incrociate diciamo una tematica una fattispecie ancora molto diffusa le società oggi si proteggono sostenendo che quel tipo di transazione muove flussi finanziari da una società all'altra che può essere diciamo considerata una giustificazione però se muoviamo proprio gli stessi flussi da una società all'altra è quasi dire che è come se stessimo facendo una compensazione quindi anche questo tipo di argomento nei quali le società oggi si difendono per giustificare questo tipo di cessioni incrociate dei diritti può lasciare il tempo che trova a l'altra si trova in i o anche a i i i i i Grazie a tutti